ciao a tutti la potenza nello sci è fondamentale la buona preparazione è importantissima perché in curva si creano delle forze incredibili sono delle dinamiche che tu devi controllare proprio con la potenza più forte sei e più riesci a gestire queste forze e più la possibilità di andare bene e fare risultati